…200 milioni… …belle piccole… …merluzze, zigze… …mettete giù la lumate… …mazzate che ti dà la polizza… …mazzate乎… …serva, tu lo fai… …ma così si mette 3-4 gol… …e rilappo… …re… come no… rilappo… …ma pure chi è davvero? poi non lo so che ci è successo non te l'ho pagato ma guarda tu stai mamma guarda un furgone a due l'ho pagato, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so Pisto i bar da giù. Come che non si piste buono? Allora, la buona! Non ciò dire io, non ci scattiamo. Ah, hai visto? E ora io ho visto pure con voi. Ma non... Non lo fa a posto, non lo fa a tarraggere. E' la metà dei buoni con le tarraggere. Comunque... stiamo attenti che tutte queste cose che stanno succedendo lo dobbiamo all'inquinamento, all'inquinamento, compagni ora non rinnoviamo, l'energia è pulita, tutte le macchine hanno sparito, tutte le macchine che in giro hanno sparito si stanno aiutando, ti stanno dando soldi a dire basta ti stanno dando 100 e 100, tutto, ti stanno pagando tutto e così stanno dicendo Conte, non è vero allora? Conte, 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 conte ma lo chiamano conto ma è un re è un re sta facendo le leggi di un re però io sono stati 40 anni e vinto fu il ruanese eh non mi ha dato di pagare perchè ti ha tenuto in galera ruanese è è chi è che si è giusto in depressione? tutto quanto l'uomo si è giusto in depressione è eh comunque salutiamo i calabresi nel mondo tutti quanti calabresi tutto quanto e vive il regno delle tue sicilie e vive il regno delle tue sicilie e vive il regno delle tue sicilie